di Cassano, non so se la dice mai pubblicamente ma in spogliatoio lo diceva sempre quando un cilindro era quello che andava in cilindro Cristante e Pellegrini Pellegrini non è pure no per Cassano ma ogni volta che parlavo, guarda che Antonio la gente si immagina che lui faccia quelle dichiarazioni per fare hype, io quelle dichiarazioni le ho sentite per anni cioè lui faccia una proprio così, tu gli dici che ne so, di ba, di ba, da pip perché per lui è caggiatore Messi, tutti i resti sono capito? allora prima di voltare pagina andrei sulla Juve aspetta, cosa diceva di se stesso perché di se stesso poteva dire grandi potenzialità ma risultati no, ma lui lo sa che è stata una testa di cazzo lo dice, lo sa bene lo dice, però in tutto questo qua aspetta, però dobbiamo dire comunque in tutto questo qua Cassano è un disastro, un casino comunque ha fatto Ermina, Linta, Roma, Sampdoria ha fatto male dappertutto quasi, quindi chi se ne frega? ah, non è male no beh, con la Roma non è benissimo con la Roma non ha fatto il titolare da nessuna quanto fosse forte no, vabbè al Milan ha fatto bene al Milan ha fatto molto bene poi ovvio alla Roma anche ma poi dopo il meglio di Sampdoria ma a che c'entra? la Sampdoria era diversa la Sampdoria siccome lui era due categorie più forti di tutti gli altri giocatori della squadra gli facevano fare quello che gli pareva perché ti faceva vincere le partite punto ragazzi cioè nel senso veramente io ti giuro ho giocato tanti anni io ho giocato tanti anni in quegli anni dove la Serie A era forte ma ti giuro che una volta ho giocato a Genova con il Bologna e perdevamo 4 a 0 al 35esimo fortunatamente la partita è finita 4 a 1 perché ci hanno voluto bene io l'onnipotenza calcistica che ho visto in quella partita a Cassano non l'ho mai vista a nessuno cioè mi ricordo che a fine partita ho detto voi non va bene voi dovete giocare uno o meno se gioca lui giuro perché era una roba senza senso e la Sampdoria non faceva altro che recuperare palla e cercare l'ultima voglio mettere in difficoltà Emiliano non mi fa 0 a 0 mi metto pure occhiali non ti voglio guardare diciamo è sempre un giochetto se 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 diciamo se se Cassano ci avesse avuto la testa a posto professionale era più forte di Totti? no 0 tecnicamente? tecnicamente dico no tecnicamente per alcuni aspetti sì per esempio il controllo della palla di Cassano penso che forse nemmeno quelli che nominiamo a volte Maradona il controllo della palla controllo lo stop capirai no però per dirti Antonio già il tiro in porta cioè se Totti vale 10 Antonio vale 5 capito? il tiro in porta il senso del gol la fantasia nel segnare questo è un attacco questo è un attacco a Savelli a Roma oggi ragazzi tra l'altro per quelli che si pensano che odio Maradona oggi ho passato due ore su Youtube a guardare solo video di Maradona cioè io l'adoro a profondo dell'aria video qua secco Cassano di Natale no Cassano 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 allora per chiudere il discorso sulla Roma volevo chiedere ad Enrico perché poi da comunicatore esperto non capisce nulla però poi di comunicazione in comunicazione se la sa cavare non ha parlato minimamente di Dybala neanche mezza parola quando all'inizio eravamo in pochi non c'erano anche neanche gli altri ha detto due frasette poi è passato a Juric è passato ai paragoni tra Cassano ma ragazzi a me ieri uno in un messaggio mi ha detto che Dybala è un ex giocatore uno che dice di lavorare nel calcio quindi cioè va bene o ieri ho avuto che mi sarebbe piaciuta farla questa discussione l'avete visto Henry ti sto salvando dalla figura di merda l'avete visto il gol di Vlaovic a San Siro quindi la discussione la palla sopra di non mi ricordo di Calulu mi sembra no Caval Caval e quindi chi aveva colpa in quell'inserimento sono stato un'ora a mandare messaggio ma da messaggio a De Rossi Bastoni Barella chiunque di che conoscevo per sapere perché Dazon e Dario Marcolini che è stato un mio allenatore da un mio amico sosteneva che avesse colpa Zelinski su quella palla lì e io sostenevo che diceva una cazzata e io ho avuto la conferma che diceva una cazzata quindi il calcio è bello perché ognuno ha le sue opinioni poi dopo vanno confermati da insomma dalla pratica più che dalla teoria quindi non so se riesco a trovarlo ma volevo farvi vedere il gol di Lukaku a San Siro contro il Milan io il discorso vorrei sapere cosa fa il discorso che fa Enrico su Di Bala se lui non sbagliasse come sempre i modi e i mezzi ci può stare perché nel senso comunque il Di Bala di oggi giocatore simbolo della scuola che guarda 7 milioni e mezzo di euro posso capire che uno dice non sta rendendo e non rende per quello che dovrebbe essere da lì però a dire che non può giocare a calcio ci stanno tanti di quei grigi nel mezzo fammi rispondere Carlo prego prego Camerio la verità intanto applausi a scena aperta concedimi 10 secondi che Yuri ci mette in panchina per scelta tecnica e lui lo va a dire il cos'è Lollo Pellegrini il fio di Roma e Brian Cristante e Samir non l'hai capito che Yuri non l'hai frega un cazzo di nessuno ancora non l'hai capito questa cosa per correttezza per me gli doveva mettere in panchina anche Gianluca Mancini no perché lasciamo perdere il discusso no lo spoglitorio no lo vedi lui ha fatto una scelta tecnica no aspetta chi deve giocare oggi che sta meglio di Mancini dimmi Hummels non trovo no ho giochi a 4 ma Vodanielo lo vediamo il gol però Mancini non è andato siccome Yuri ci tiene ai comportamenti uno che parla in faccia lui non è andato in panchina abbandonato la squadra e chi era fatto il capitano se è pallidica isterico ok punto Di Bala la verità è che è un al 50% un ex atleta quello che ha scritto Yuri c'è a Roma non comanda un cazzo gli ordini delle formazioni voi non conoscete no piuttosto va a casa domani mattina no 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 si fa esplodere a più ore l'impossibile proprio l'unica cosa è l'unica certezza che si ha però in tutto quasi fa botte con bagnati al Torino quasi fa botte con bagnati la tua difesa ora lo fa Viviano come al solito con il coltello tra i denti si scaglia contro il professor Camelio che tra l'altro è una persona anziana con una violenza inaudita stop alla violenza è un bel messaggio è un bel messaggio che era giusto la verità però lo so che voi avete un po' paura un po' di Bala di Bala di Bala di Bala comunque non so se vi rendete conto fa l'attaccante tira le punizioni tira i cacci d'ango tirata per tutto lui in 8 mesi tra assenze le presenze le presenze che ha fatto dice però quando di Bala c'è voi dite quando di Bala c'è di Bala fa differenza in 8 in 8 fermate in 8 mesi ci metto pure ieri 8 mesi e mezzo ha fatto un gol su azione quindi è un ex atleta non c'è stata sta chiacchierà e infatti chi cazzo voleva? in Arabia e che di che è stata a parlare ma di che scusami ma quel gol col Milan a giro che così quando era? no si è buttato solo sul campionato ho capito Vivio cos'era quella? erano i quarti di Europa che vuol dire ti è buttato sul campionato? no nel senso che per avere maggiormente ragione è un dato allarmante o no? ma certo però secondo me Enrico però secondo me Enrico le caratteristiche il valore di Di Bala i pregi e i difetti si conoscono da tempo qua rientriamo nel discorso secondo me che faceva Vivio prima nel paragone fra Lazio e Roma non c'è la squadra giusta che possa mettere le gol che ha detto io combatto Palamaia ma fate Emilia ma che c'entra nessuno quello che stavo dicendo? chi? ma di Bala ha detto io su Palamaia ragazzi ma quello che uno sente io vengo in ritiro io vengo in trasferta ma di che stai a parlare? di Bala perché ieri non vinci neanche con Torino se non c'è Di Bala che fa quella giusta non lo so io Henry sinceramente in una squadra che ha dei limiti in una squadra che ha dei limiti legati a quello che vorrebbe essere no? perché si parla di Cebbia sono le varie sinceramente quando vedo che intorno a lui alla palla Di Bala cioè meglio di quegli altri lo dico sinceramente poi ma la Lazio e la Fiorentina hanno Di Bala allora la Lazio e la Fiorentina non potrebbero nemmeno averlo perché hanno scelto di giocare hanno scelto di giocare in una maniera in cui lo stesso Pedro che è ancora un campione deve giocare ogni tanto scusa dove lo metti Di Bala in questa serie A per il modo di giocare di tutte le squadre qual è secondo te la squadra in cui Di Bala riesce a esprimere il meglio di se stesso a Juve no sì alla Juve potrebbe fare perché giocano il trequartista al Milan anche al Milan potrebbe fare gli porta le scarpe a Hildiz di Bala in che senso scusami gli 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 porta allora innanzitutto che cazzo c'entra di Bala con Hildiz è un riloma è un riloma lo fa apposta per attirare il qualcuno alla Juve perché se gioca con Miners sottopunta non poteva giocare di Bala ma di Bala non si regge in piedi ma la Juve ma l'avete visto la Juve gli ultimi anni non ha giocato mai su questo Enrico c'ha ragione sinceramente alla Juve prima che gli prendesse quella roba dopo il covid avrà raggiunto un livello che non so se Hildiz raggiungerà mai sì ma ricordate pure le partite in Champions League sì sì però io ti dico allora ma ascoltami ascoltami non qui si sta parlando solo di una cosa tattica è ovvio che se lo metti alla Juve oggi non è un titolare indiscutibile ci mancherebbe altro per varie ragioni però io sto cercando di fare una valutazione come giocano le squadre e dove potrebbe giocare lui se lo metti all'Inter a fare la seconda punta fa fatica a fare 3-5-2 secondo me fa fatica quindi Milan e Juve dietro la punta sì Milan e Juve dietro la punta Napoli non credo secondo me anche nella Roma non di Juric cioè te fai 3-4 ma nella Roma allora il discorso il discorso Carlo ripeto come giocato il discorso della Roma era perfetto giocatore comunque per ovvie ragioni è un po' in ribasso guadagna tanto vuoi fare un tipo di calcio che magari è anche un po' più dinamico lo vendi e prendi su Le e punti su Le va benissimo tutto perfetto dal momento che ce l'hai anche De Rossi meno scemo che poi lo fa giocare perché comunque è un calciatore soprattutto che se tu hai la possibilità di dominare la partita Henry non fa così perché io tu parli con Daniele la volta ogni tanto io ci parlo ieri sera c'ho 25 messaggi di calcio con Daniele quindi adesso ho discorsi che se li faccio e io sì sempre continuamente e quindi se ce l'hai in campo soprattutto nelle partite in cui domini e se sei un allenatore o un calciatore della Roma o della Juve o dell'Inter è ovvio che tante partite le domini ti può dare delle soluzioni per esempio la Juve ha avuto mille volte problemi ti ricordi Matte quegli 0-0 dove non si trovava spazi eccoli metti di bala dalla panchina e qualcosa può succedere lo sai l'hai visto tanti anni magari ti manda in Vlaovic in porta farà un po' meglio a mandarti in porta lui che Copminers o no? guarda io ti dico nella Juve il problema suo allora fino a Juve Barcellona quella del 3-0 la doppietta di bala stava per diventare uno dei calciatori più forti una scritta in qualsiasi squadra che palleggia di più di bala gioca ha ragione quello è il senso fino a quel momento di bala stava per diventare uno dei più forti al mondo poi non si sa che gli è successo Matte ma lo vedo anche io io ti sto dicendo io ti sto dicendo che comunque ti dà delle soluzioni ti dà delle soluzioni ancora oggi in campo che non tanti giocatori vedono poi è ovvio il ritmo dimmi te si sta riscudendo della titolarità fissa anche con la Roma quindi figuriamoci ma probabilmente probabilmente per varie ragioni anche quelle fisiche anche quella la titolarità indiscutibile non ce l'ha da nessuna parte però io sinceramente al di là del discorso economico che una società deve fare se oggi in giro e guardo in panchina e posso mettere di bala e che cazzo ragazzi immaginate di bala con Turam ma non ce la fa ragazzi questo non si può fare proprio siccome Emiliano parla con Di Bala e scusa con De Rossi allora gli volevo chiedere uno moriti da fuori in altra roba e metti in difficoltà anche De Rossi è la settimana no 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 ti lo chiedo tu hai detto che parli con De Rossi quindi io ti chiedo ma lui voleva di bala o non voleva di bala lo vedi ancora io spero su Dio che tu non ci parli e che lui non ti risponda mai più ma io non ci parlo scusa se tu hai detto che cazzo ho io che devo fare io e secondo te se ci parlo e so questa cosa la dico qua giusto no ecco tu sei di te che c'è parli le stesse spiegazioni che devo che vuoi da me scusami io ti sto chiedendo uno che mi stai mettendo in difficoltà ma tu mi dici che parli con De Rossi ma con De Rossi mi ci metti a me quindi io non ci parlo quindi che te devo dire seconda cosa ti chiedo come mai di bala che voleva andare via a marzo-aprile l'ha comunicato alla Roma voleva andare a fare la Champions con 12 milioni non ha bustato nessuno solo gli arabi no siccome tu mi stai dicendo che poi ha giocato ovunque se ce l'hai gioca ma non lo voleva perché secondo te chi è che si può permettere permettere un calciatore che guadagna 7 milioni e mezzo di euro per tenere in panchina nessuno quindi se ne fa sempre un discorso di nome ma se l'Inter è andato avanti sei mesi per rinnovare il miglior giocatore che ha in Rosa perché era una questione economica significa non è che le squadre italiane siano allora ragazzi siccome Enrico siccome sono arrivati quasi alle 7 allora volevo far vedere questo è un po' Enrico scusa il discorso che si faceva su Balotelli uguale quando uno dice devo rischiare di no aspetta sei bloccato è un rischio che uno dice cazzo ma per 300 mila euro se mi giro e dalla panchina entra Vitimia al Genoa sarà un po' meglio Balotelli la penso così io sinceramente 300 mila euro è una cifra a caso non lo so all'infuori la mia scusa all'infuori dei pensieri di De Rossi no perché poi le cose si vengono a sapere ma scusa De Rossi la Sibara voleva andare via la Roma lo aveva mandato via e lui voleva andare via è tutto a posto ha arrivato lui si va avanti così all'infinito ma scusate allora 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 ma volete il video d'addio volete il video d'addio volete il video d'addio andiamo avanti eh una cosa ve lo faccio vedere sta qua di tutta di tutti che v'è sfuggita che io ho fatto una domanda a Enrico e lui mi ha risposto io ho detto ma ha fatto quindi meglio Iuric di De Rossi e Enrico ha detto sì giusto? ma è per lui i media punti certo è oggettivo non è che si è stata chiacchierata due punti meglio Iuric e De Rossi hanno fatto bene quindi in campionato quanti punti ha fatto Iuric? dieci su cinque partite così sono in casa con squadre facili ma De Rossi ha perso con l'Empoli purtroppo mi vuole dirlo mi vuole dirlo parliamo anche di Juventus parliamo di Milan parliamo di Inter di Napoli parliamo di Frentina di Lazio dobbiamo parlare di tutto abbiamo poco tempo volevo farvi